Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Il 16 aprile del 1997 Doris Angleton lascia le sue due figlie gemelle al campo dove giocheranno una partita di softball. Ci troviamo a River Oaks, la zona più ricca di Houston in Texas e frequentata da moltissime donne avvenenti. Eppure Doris Angleton sembra catturare l'attenzione più delle altre. Qualcosa nella 46enne fa sì che la gente si giri a guardarla più volte quando cammina per strada. Doris è snella e atletica, sa come prendersi cura del suo aspetto, ha una pelle invidiabile e capelli ramati che le ricadono sulle spalle. Viene regolarmente scelta come modella da un consulente d'immagine di River Oaks. Quando si trova nel cortile dell'Annunciation Orthodox, la scuola privata d'Elite dove sono iscritte le sue figlie, Doris saluta tutte le altre madri con un ampio sorriso. Molte persone considerano Doris un'amica, una a cui piace ridere e scherzare. Il marito di Doris, Bob, si trova già al campo da softball quando lei e le figlie arrivano. Bob è l'allenatore della squadra femminile e prende molto sul serio questo impegno. È un uomo di bell'aspetto, con la pelle olivastra e gli occhi marroni. Inoltre, le sue finanze sono più che floride. Come accennato, Doris è una donna vivace, allegra e amichevole, mentre Bob non risulta essere un tipo socievole. Per niente. Insomma, non apprezza le chiacchiere, non mostra un grande senso dell'umorismo e ogni volta che qualcuno gli chiede che lavoro svolga, è evasivo. Risponde che è esperto di investimenti nel settore immobiliare oppure che gestisce un servizio di corriere a Houston. A dirla tutta, molti genitori presenti alle parti di softball si chiedono cosa Doris trovi di speciale in Bob. Beh, di certo lui si assicura che la sua famiglia abbia il meglio nella vita. Mi spiego, quando le due gemelle iniziano a mostrare interessi per il softball, Bob non solo diventa l'allenatore della squadra in cui gareggiano, ma compra loro la migliore attrezzatura da softball che riesce a trovare. Quella sera del 16 aprile, Bob vede Doris 30 minuti prima che inizi la partita. La donna gli dice che una delle mazze da softball delle figlie è stata dimenticata a casa, così decide di rientrare per cambiarsi e recuperarla. Due ore dopo, la polizia trova il corpo di Doris senza vita. È riverso sul pavimento di casa vicino alla porta della cucina. La donna è stata colpita da sette proiettili in testa e cinque al petto. Per tutta la notte i vicini degli Angleton rimangono all'esterno delle loro abitazioni, immobili su quei prati perfettamente curati, mentre la polizia stende il nastro giallo per delimitare la scena del crimine intorno appunto alla casa degli Angleton. I vicini inoltre rilasciano varie interviste in cui descrivono gli Angleton come persone davvero simpatiche. Non possono credere che sia accaduto un fatto così tremendo nella loro zona, nota per essere confortevole e accogliente. Ma uno di quei vicini non dice tutto quello che sa. Bob Angleton, a quanto pare, è più di un comune milionario di Houston. È infatti anche l'allibratore di maggior successo della zona. L'allibratore, come magari sapete, è una figura che gestisce le scommesse sportive, le registra e le riscuote. Durante i quasi 15 anni del loro matrimonio, Bob e Doris hanno mantenuto a segreta l'occupazione di Bob, raccontando la verità solo agli amici più fidati. Per settimane le dicerie e i sospetti si rincorrono lungo Riverox. Il colpevole dell'omicidio di Doris è sicuramente un allibratore rivale, uno molto vendicativo. Oppure la sua morte è stata la conseguenza di un atto disperato, di un giocatore d'azzardo inadempiente, uno incapace di saldare il suo conto con Bob. Si dice inoltre che anche i criminali asio-americani di Houston, i quali vogliono espandere la loro attività di allibratori nella zona, lo stessero cercando. Circola infine un'altra voce, secondo cui il fratello minore di Bob, Roger, un agente immobiliare un po' sconsiderato che vive in California, abbia cercato di estorcere denaro a Bob. Poco prima della morte di Doris, Roger avrebbe infatti scritto a Bob una lettera in cui presentava una richiesta di 200.000 dollari e lo minacciava con parole che traduco testualmente. Ti farò del male e te lo ricorderai per il resto della tua vita, se non pagherai. Quello che quasi nessuno sospetta è che l'uccisione di Doris possa avere a che fare con la vita segreta di qualcun altro, ossia Doris stessa. In che senso? Vi spiego subito. L'anno prima della sua morte, nelle giornate in cui nessuno era in casa o di notte quando tutti dormivano, Doris utilizzava il computer delle figlie e accedeva a una chatroom per utenti over 40 gestita da America Online. Per Doris all'inizio quello era un diversivo innocuo, un modo per impiegare il tempo, ma poi si ritrova a chattare sempre più spesso con un agente di cambio di 40 anni, un uomo sposato. Doris dopo un po' di tempo gli rivela che era disperatamente infelice, bloccata in un matrimonio che la faceva sentire vuota. Nel dicembre del 1996 lei e l'uomo della chat si incontrarono di nascosto. Due mesi dopo Doris chiede il divorzio, ma dopo altri due mesi ancora viene trovato il suo cadavere. Gli investigatori dell'omicidio sospettano subito che Bob sappia più di quanto dice sull'omicidio di sua moglie. Tuttavia senza testimoni oculari e in assenza di elementi di prova validi, l'indagine stenta a decollare. Con il passare della primavera e dell'estate, molti di coloro che conoscono gli Angleton iniziano a condividere la teoria della polizia. Altri invece rimangono fermamente convinti che Bob non avesse alcun motivo di uccidere sua moglie. Adesso però dobbiamo porci una domanda. Da dove proviene Bob? Ebbene, nei primi anni venti il padre di Bob Angleton, Nicholas Eggletos, abbandonò a Port Lavaja in Texas il piroscafo greco su cui stava lavorando come mozzo. Cambiò il suo nome in Angleton e si trasferì a Est. Sposò una donna americana e riuscì a diventare un ricco costruttore. Edificò delle caserme per il governo federale durante la seconda guerra mondiale e in seguito degli appartamenti con giardino negli New Jersey. Bob e suo fratello Roger, più piccolo di lui di sei anni, crebbero in una grande casa nel New Jersey sviluppata su un acro e mezzo di terra. Durante l'estate la famiglia tornava in Grecia e navigava nel Mediterraneo a bordo di un grande yacht. Durante un interrogatorio di 45 minuti con la polizia Bob dice che Roger era un ragazzo brillante, ma indisciplinato. Aveva distrutto la corvette che i suoi genitori gli avevano regalato, era stato espulso da diverse scuole, ma alla fine si era diplomato presso un'accademia militare di New York. Bob invece aveva frequentato la Syracuse University, dove si era laureato in filosofia. Sebbene entrambi i fratelli avessero lavorato con il padre per brevi periodi, quando avevano vent'anni circa, nessuno dei due voleva prendere le redini della sua azienda. Bob era sfacciato e presuntuoso, si scontrava spesso con suo padre. Nicholas, dal canto suo, smise di finanziare il figlio perché disapprovava una giovane donna che Bob frequentava, un assistente di volo della Panam. Determinato a fare a modo proprio, Bob si trasferì con la sua ragazza in Florida, dove acquistò un ristorante in franchising aperto 24 ore su 24. Quando il ristorante e la sua relazione fallirono, Bob si resse a Ovest in cerca di fortuna e Roger decise di unirsi a lui. Era la fine degli anni 70. Roger acquistò degli immobili residenziali e ottenne abbastanza successo da gestire l'attività di intermediazione per l'agenzia immobiliare Remax. Bob stava ancora cercando la sua strada e decise di aprire un lotto di auto usate. L'attività però non lo soddisfaceva completamente. Rimase incuriosito da un paio di allibratori con cui aveva scommesso e loro gli proposero di unirsi all'organizzazione. Bob lavorava nei giorni feriali e nei fine settimana, rispondeva al telefono in ufficio, elencava i punti assegnati per ogni partita e annotava le scommesse. Il lavoro però non si rivelò molto redditizio, infatti i due soci seguivano circa 25 giocatori d'azzardo e non avevano una riserva di denaro sufficiente per coprire scommesse superiori a qualche migliaio di dollari. Tuttavia Bob credeva di aver trovato la sua vocazione. Realizzò dei biglietti da visita con su scritto Robert Angleton al libratore sportivo. Ambizioso e zelante non beveva mai più di due drink a notte, non stava fuori fino a tardi, non coltivava alcun hobby e non sembrava neanche così interessato alle donne. Molti giocatori d'azzardo quando lo incontravano rimanevano sorpresi dai suoi modi bruschi. Bob parlava in maniera frettolosa ed era impaziente, anche se talvolta riusciva a mostrarsi condiscendente. Era molto perspicace quando scommetteva, una sorta di calcolatrice umana. Infatti era in grado di tenere traccia delle tendenze di una giornata di scommesse, distribuita su ben 40 partite. Idealmente una libratore auspica che l'importo pagato dai giocatori vincenti per un determinato gioco corrisponde all'importo prelevato dai giocatori perdenti, così da non rimetterci nulla di tasca propria. Una libratore guadagna raccogliendo una commissione standard del 10% dai giocatori perdenti, ma Bob conosceva anche dei trucchi per far sì che i suoi scommettitori perdessero. Quanto a Doris Angleton, nata Doris McGowan, era una donna cordiale, simpatica e attraente. Figlia di un ingegnere della Dow Chemical Company di Lake Jackson, una città sud di Houston, Doris si laureò all'Università del Texas nel 1973 e si trasferì nell'area di Houston. Trovò lavoro come rappresentante di vendita di prodotti farmaceutici e sposò un giovane che lavorava come rappresentante per un'azienda di forniture per ufficio. Nell'autunno del 1979 il suo matrimonio però si stava sgretolando. Insomma Doris si stava avvicinando ai 30 anni, viveva in un soborgo ma voleva partecipare alla vita di West Loop, l'area esclusiva di West Houston. Doris incontrò Bob a una festa mentre era insieme a suo marito. Bob rimase letteralmente folgurato da Doris e alcuni mesi dopo, quando la donna era in fase di divorzio, le chiese di accompagnarlo a Ruggle, un noto ristorante di Houston. Nel 1982 Bob regalò a Doris un anello di fidanzamento. I due si sposarono quel maggio e due anni dopo Doris diede alla luce due gemelle. Gli Angleton acquistarono una villetta schiera in un quartiere di Houston. Molto carino, ma era chiaro che non sarebbero rimasti lì a lungo. Insomma Bob era troppo ambizioso. Nonostante lui e i suoi partner guadagnassero 30.000 dollari al mese, o almeno così sembra, Bob decise di abbandonare la squadra per lavorare da solo e lavorava per ben 18 ore al giorno. Gli amici ricordano che quando un fine settimana andò in spiaggia con loro, Bob aveva due cerca persone attaccate al costume da bagno. Quando nuotava al Brear Club adagiava un cerca persone sul bordo della piscina e lo controllava molto spesso. Un ex dipendente del Brear Club ha ipotizzato che negli anni 90 ci fossero almeno 20 persone che lavoravano per Bob. I reclutatori di Bob, alcuni dei quali erano ragazzi provenienti da famiglie benestanti, consigliavano a giocatori d'azzardo noti e con ampia capacità di spesa, intercettati nei migliori country club della città, di rivolgersi al loro capo. Gli impiegati di Bob percepivano un salario base di 2000 dollari al mese. Inoltre Bob comprava loro degli appartamenti già arredati e dotati di televisori a colori da 27 pollici. Se un giocatore vinceva, Bob lo incontrava prontamente insieme a uno dei suoi corrieri più fidati e gli liquidava le vincite spettanti. Le stime sul numero di giocatori d'azzardo che usufruivano dei suoi servizi contano da 400 a più di 1000 clienti. Ma nel 1985 Bob viene arrestato a causa delle sue scommesse. Secondo Bob, un cliente ricco che gli doveva molti soldi ma che non voleva ripagarlo, lo aveva denunciato. Le accuse però vengono ritirate per mancanza di prove e Bob non viene mai più arrestato per via del suo lavoro. Siccome intendeva tutelarsi da ulteriori problemi, Bob aveva accettato di diventare un collaboratore di Wesley Filder, il vice ufficiale che lo aveva arrestato. Bob riferirà poi che l'unico incarico che aveva svolto per Filder era stato quello di spiegargli i vari aspetti dell'attività della libratore. Un portavoce della polizia non commentò il rapporto che il dipartimento aveva instaurato con Bob, se non per dire che era un informatore informale e non un informatore pagato. Bob, tra l'altro, non era affatto una persona violenta. Ma perché vi sto dicendo questo? Ebbene, di solito gli allibratori si avvalgono di uomini conosciuti nel settore come spaccamuscoli o spacca gambe, ossia individui intimidatori assunti per recuperare il denaro dagli scommettitori insolventi. Bob, piuttosto che far loro del male, si limitava a estrometterli completamente. Non paghi, non fai più parte del mio giro, io non so chi tu sia, basta. Gli allibratori locali affermano che Bob era così determinato a diventare il migliore allibratore di Houston che aveva fatto arrestare almeno 5 competitor, incluso un suo ex partner. I loro avvocati sostenivano che all'inizio degli anni 90 Bob forniva a Wesley Filder i numeri di telefono di altri allibratori che Filder avrebbe poi utilizzato per intercettarne le chiamate e raccogliere prove. Per nascondere il suo ruolo di informatore, secondo quanto riferito, Bob aveva accettato che Filder arrestasse perfino uno dei suoi stessi dipendenti. Gli altri allibratori erano comunque sospettosi. Solitamente Bob li chiamava un paio di giorni dopo il loro arresto e si offriva di curare i rapporti con i loro clienti fino al momento del giudizio. La vita di Bob come informatore della polizia suggeriva che avesse una personalità molto più calcolatrice di quella che i suoi amici più fedeli avrebbero potuto attribuirgli. Quando Filder si ritirò dalle forze di polizia nel 1992 anche lui iniziò a fare scommesse. Insomma diceva apertamente ad altri ufficiali che non sarebbe mai stato beccato perché conosceva bene quel business. Ma meno di due anni dopo Filder fu arrestato. Secondo l'avvocato di Filder l'informatore che aveva fornito le prove per condannarlo altri non era che Bob Angleton. A quel punto Bob aveva attivato una relazione con un altro ufficiale della squadra ossia Kevin Templeton. Arriviamo alla metà degli anni 90 quando Bob, sua moglie e le loro figlie incarnano il ritratto di una famiglia dalla vita perfetta e privilegiata. Bob guadagna almeno un milione all'anno grazie al suo lavoro così la famiglia si trasferisce in una grande casa a L.A. Lee ai margini del fiume Oaks. Oltre a frequentare la scuola ortodossa dell'annunciazione le figlie di Bob e Doris prendono lezioni di equitazione. Contemporaneamente Bob inizia a dedicarsi anche ad altre attività investendo parte dei soldi guadagnati nell'acquisto di alcune imprese come un servizio di corriere di Houston di successo. Compra pure un campo da golf a ovest di Houston. La maggior parte dei residenti di River Oaks non hanno idea della vera fonte del successo di Bob. L'uomo non parla neanche alle figlie dei suoi affari ma con degli amici più stretti Bob e Doris non sono così cauti. Durante una visita a Doris nella sua casa sulla spiaggia di Galveston un'amica chiede alla donna dell'occupazione del marito. Doris le risponde che Bob scrive libri che è un ghostwriter. Nessuno nella cerchia più intima degli Angleton sembra preoccuparsi del fatto che Bob sta infrangendo la legge. Nessuno lo considera un criminale. Alcuni residenti della zona di River Oaks vanno persino a lavorare per lui. Per definizione fare l'allibratore è un crimine anche se in apparenza non ci sono vittime perché insomma nessuno obbliga i giocatori a scommettere. No? Ma è un'attività rischiosa. Si può essere esposti a diverse minacce e poiché la polizia non interviene attivamente per difendere un allibratore costui deve trovare modi alternativi per proteggersi. Bob sa che ci sono molti liberatori che lo vogliono escludere dal mercato ma la figura più minacciosa per lui è suo fratello Roger Angleton di sei anni più giovane il quale ha una personalità alquanto eccentrica. Nel 1989 Roger come altri imprenditori di Houston cade in disgrazia così Bob accetta di inserirlo nel mondo degli allibratori. Bob vuole insegnargli tutto del suo lavoro ma ben presto si rende conto che Roger non è adatta a quell'attività. Roger lavora per Bob dal gennaio del 1989 all'agosto del 1990 poi viene licenziato. I due fratelli concludono insieme ancora un paio di affari immobiliari ma Roger è tutt'altro che felice. È convinto che Bob deva pagargli il 15% dei suoi guadagni. Il fratello si rifiuta allora Roger decide di vendicarsi. Nel dicembre del 1990 Bob incontra Roger in un parcheggio situato nei pressi di un'agenzia che eroga mutui. I due fratelli devono discutere di una negoziazione immobiliare che Roger sta gestendo per conto di Bob. Bob sostiene che Roger è salito nella sua macchina e gli ha puntato contro una pistola stordente per poi chiedergli 200.000 dollari in contanti. Roger sapeva che Bob gli aveva con sé in vista della chiusura dell'affare. Bob a questo punto che ha fatto lo ha preso a pugni ma Roger è riuscito ad afferrare una valigetta supponendo che contenesse il denaro ed è saltato fuori dall'auto per poi darsela a gambe. Quando però si rende conto che nella valigetta non c'è nemmeno un dollaro che fa Roger? Chiama Doris per dirle che se Bob non avesse pagato avrebbe fornito alle autorità le documentazioni opportune per condannarlo dietro alle sbarre. Bob a questo punto è spaventato da questo tentativo di estorsione tanto che chiede a un conoscente dei consigli su come proteggere la sua famiglia. Sta pensando di assumere delle guardie del corpo e di installare un nuovo allarme. Dopo l'episodio del parcheggio inoltre Roger contatta alcuni dei migliori clienti di Bob fingendo di essere un agente del IRS, l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi negli Stati Uniti d'America. L'IRS guidata da un commissario nominato dal presidente degli Stati Uniti comandato quinquennale rappresenta dunque una sezione del dipartimento del tesoro statunitense. Roger propone ai clienti di Bob di incontrarsi per parlare del fratello, un metodo infallibile per spaventarli. Bob a questo punto non ha altra scelta che pagare Roger e tutelare i suoi affari. In cambio del silenzio di Roger Bob accetta di versare un acconto di 12.000 dollari e di inviare 2.500 dollari da febbraio del 91 a febbraio del 93 a una casella postale di San Diego dove Roger si è trasferito. Bob a questo punto non prova più a contattare suo fratello. Dopo qualche tempo Roger però torna a Houston e a questo punto mi sorgono alcune domande. È da solo oppure Bob gli ha chiesto aiuto per uccidere sua moglie? Ha forse scoperto del tradimento di Doris? C'è un motivo per cui vuole metterla a tacere? Quale sarebbe il movente che lo guida? In ogni caso se Doris teme per la propria incolumità non dà certo a vederlo. Alle sue amiche rivela che Bob non si associa a persone spregevoli. Si limita a dire questo. Bob tra l'altro le aveva assicurato che non sarebbe mai stato arrestato per via del suo mestiere. Ma con il passare degli anni le amiche più care di Doris non possono fare a meno di chiedersi se lei sia ancora felice di essere la moglie di una libratore. Doris si impegna al massimo per garantire una quotidianità tranquilla alle figlie. A scuola si offre volontaria per aderire a un'attività che richiede la partecipazione di un genitore. Organizza feste per bambini e mamme, decora la sua casa per i party, propone serate tra donne da trascorrere in più ristoranti della zona. Intanto suo marito continua a fare la libratore ma la situazione a Doris inizia a stare stretta. Anche perché Bob le aveva promesso che non avrebbe fatto la libratore per sempre, che prima o poi avrebbe cambiato lavoro. Nonostante il trasferimento a Riverox, Bob riesce a malapena a smussare la sua personalità al quanto ruzza e spesso sconsiderata. Non è capace di fare amicizia come Doris, quindi la moglie cerca di dargli una mano. E in effetti Bob ha molto da imparare ma non è in grado di mettere in pratica ciò che Doris tenta di insegnargli. Molti degli amici di Doris pensano che Bob sia un caso perso. Insomma, raramente l'uomo dice per favore o grazie. Una donna ricorda che una volta Doris aveva portato una videocamera non funzionante per errore a un'assemblea scolastica e il marito l'aveva aggredita davanti ad altri genitori e studenti dicendo quanto puoi essere stupida. Durante le partite di softball Bob rimproverava le sue figlie se commettevano errori e gli spettatori sugli spalti sussultavano per l'imbarazzo. In altre circostanze sembrava che Bob trattasse moglie e figlie con molta premura. Una volta le portò in vacanza in Florida ma scoprì che il mare era inquinato a causa di un recente uragano. Allora le riportò all'aeroporto e si imbarcarono su un volo diretto alle isole Cayman dove il mare è limpido. Bob non è un uomo che si fa apprezzare facilmente ma è devoto a color a cui tiene. Tuttavia nell'estate del 1996 Doris dice ad alcuni amici intimi che non sa quanto il suo matrimonio sarebbe ancora durato. È sempre stato un legame privo di passione e lei ai regali costosi ricevuti da Bob preferirebbe una maggiore intimità. Doris tra l'altro pensava di riuscire a vivere in questo modo concentrando tutte le sue energie sulle figlie. Ma ora che le gemelle stanno crescendo e non hanno più bisogno della sua costante attenzione si sente molto sola. Alcuni amici sono turbati dal fatto che Doris prenda seriamente in considerazione l'idea del divorzio. Possono comprendere quei sentimenti di insoddisfazione che a volte emergono dopo 15 anni di matrimonio e si chiedono se Doris stia vivendo una comune crisi di mezza età. Quando scoprono che Doris utilizza la chatroom over 40 gestita da America Online pensano che stia solo cercando un modo per impiegare il tempo dato che un infortunio al polso le sta impendendo di giocare a tennis al Briar Club, attività che faceva molto molto spesso. Però poi vengono a sapere che Doris rimane online per ore e allora la mettono in guardia inviandole degli articoli sulla dipendenza da internet. Le dicono addirittura che soltanto gli svitati frequentano le chatroom. Attraverso il computer delle sue figlie tuttavia Doris ha finalmente avuto accesso a un mondo in cui Bob non può entrare. Le persone che bazzicano online non sono tutte svitate. Doris si rende conto che molte sono semplicemente sole oppure annoiate esattamente come lei. Inizia quindi a creare relazioni con un'intera comunità di utenti. Desiderosa di comunicare ed emotivamente vulnerabile Doris si racconta attraverso la chatroom e parla della sua frustrazione legata al matrimonio. Un agente di cambio con cui si confida sembra comprendere i sentimenti di Doris. L'uomo è sposato e ha due figli, è un musicista direttante e invia a Doris un nastro con alcune canzoni folk pop che aveva registrato. Presto i due si spostano in una chatroom privata, poi si sentono per telefono. Così Doris senza mai mettere i piedi fuori casa inizia a innamorarsi di un altro uomo. Alla fine del 1996 i due si incontrano segretamente nei fine settimana in una spa in Arizona, al Four Seasons di Austin, persino in un hotel a Houston. Per impedire al suo marito di sospettare che lei lo tradisca, Doris invita anche un'amica d'infanzia che l'ha accompagnata in alcuni viaggi. Nessun altro amico però sa che ha una relazione extracognugale. Ovviamente anche Bob è all'oscuro di tutto, anzi pare voglia salvare il matrimonio. Si reca da una consulente matrimoniale con Doris le fa ricapitare spesso fiori, scrive lunghi biglietti romantici e li lascia sotto i tergi cristalli della sua macchina. Le propone di andare in Italia durante le vacanze di primavera e le promette che avrebbe lavorato di più per essere meno asfissiante nei suoi confronti. Il punto è che Doris ormai ha già deciso. Dunque che fa? Assume Thomas Connor, i cui assistiti sono le persone più ricche di Houston e nel febbraio del 1997 chiede ufficialmente il divorzio. Gli amici di Bob sostengono che lui all'inizio fosse sconvolto all'idea di divorziare ma poi aveva accettato la scelta di Doris. La coppia decide che non avrebbe detto nulla alle gemelle fino alla fine della primavera. A quel punto Bob si sarebbe trasferito, avrebbe affittato una casa schiera nelle vicinanze per poter continuare a vedere le sue figlie regolarmente. Il consulente matrimoniale della coppia sostiene che Doris non ha mai manifestato paura nei confronti di suo marito. Bob acconsente rapidamente alla richiesta di Doris di dividere il denaro custodito nelle cassette di sicurezza situate in sei banche di Houston. Doris è pronta a iniziare una nuova vita. Incontra un'amica per bere un bicchiere di vino e le confessa di aver incontrato un altro uomo. Anche lui è sposato ma ha in procinto di divorziare da sua moglie. Doris racconta a un amico che quando le gemelle si sarebbero recate a Camp Longhorn per l'estate lei sarebbe partita per fargli visita. È così entusiasta che inizia persino a parlare di matrimonio. Quando l'amico le chiede se Bob sappia qualcosa Doris gli risponde di no. Bob però nel frattempo continua a tentare di riconquistarla. Infatti organizza una festa per il 46esimo compleanno di Doris in un ristorante in cui lui e la moglie avevano cenato per il loro primo appuntamento ben 17 anni prima. Alla cena prevista per l'11 aprile partecipano 12 amici intimi e la serata trascorre serenamente. Tutti fanno battute e si divertono. Bob è seduto a un'estremità del tavolo, Doris all'altra. Cinque giorni dopo il 16 aprile Doris lascia le figlie al campo dove disputeranno una partita di softball ma non vi fa più ritorno. Secondo la dichiarazione rilasciata alla polizia da Bob l'uomo inizia a cercarla sugli spalti intorno alle 8. Mentre in piedi vicino alla panchina recupera il telefono e la chiama sul cellulare poi chiama il numero di casa per 3 o 4 volte senza ricevere risposta. Alla fine della partita dove le figlie tornano a casa e notano che l'auto di Doris è parcheggiata davanti alla porta d'entrata. Bob si avvicina per posteggiare e nota che la porta sul retro, quella che dà sulla cucina, è aperta. Così chiama immediatamente i servizi di emergenza sanitaria. Nella sua dichiarazione alla polizia Bob riferisce che l'operatore dei servizi di emergenza gli aveva detto di non entrare in casa. La polizia sopraggiunge pochi minuti dopo, entra e trova il cadavere di Doris vicino alla porta sul retro. Bob dichiara che quando vede Doris senza vita sente le gambe che cedono e inizia a piangere. L'ufficiale però gli consiglia di trattenere le lacrime davanti alle figlie. Bob allora sostiene di essere andato nel dialetto e di essere sprofondato nell'erba dal dolore. Tutte le amiche e le conoscente di Doris sono profondamente addolorate. Al funerale partecipano ben 400 persone. L'uomo che Doris avrebbe dovuto incontrare quell'estate condivide alcuni messaggi tristi nella chat room dove anche altri utenti erano entrati in contatto con Doris. Poi si disconnette e lo fa per sempre. Nessuno lo vede più online in quella chat. Ossessionate dall'omicidio, un gruppo di amiche di Doris che diventeranno note come quelle di River Oaks, iniziano a incontrarsi ogni settimana per cena a casa di Nancy Drew, una cara amica di Doris, dove si discute dell'accaduto e soprattutto ci si interroga su Bob. Perché se era davvero preoccupato per Doris non si è precipitato dentro casa quando visto la porta aperta? Forse riteneva logico agire con cautela dato che aveva le figlie con sé? In casa non si riscontrano segni di scasso, l'allarme era stato disattivato, dunque il colpevole era qualcuno che aveva le chiavi di casa e conosceva il codice per disattivare l'allarme. Le voci diventano così fitte che Bob decide di diffondere una lettera tra i genitori presenti durante una partita di softball a cui partecipano le sue figlie. Nella lettera c'è scritto Doris e io vivevamo insieme, avevamo una relazione amichevole e amorevole che metteva al primo posto le nostre figlie. Amo ancora mia moglie molto profondamente e sto soffrendo più di quanto chiunque possa immaginare. La polizia intanto apprende che Bob non era solo un allibratore, infatti aveva lavorato per molti anni proprio come informatore della polizia, denunciando quindi altri allibratori. Questa sua collaborazione viene considerata come un possibile movente per l'omicidio di Doris. A questo punto delle indagini Bob aveva già espresso alla polizia che sospettava che l'assassino fosse suo fratello Roger. L'uomo racconta agli investigatori dell'omicidi il tentativo di estorsione di Roger risalente al 1990, ma aggiunge anche che dopo diversi anni di silenzio Roger lo aveva improvvisamente ricontattato nel gennaio di quell'anno per chiedergli un incontro. Si erano incontrati il mese successivo a Houston e si erano perquisiti a vicenda per assicurarsi che nessuno dei due avesse con sé un'arma. Secondo Bob gli intenti di Roger erano tutt'altro che amichevoli. Gli aveva detto che possedeva ancora la documentazione sull'attività di allibratore svolta da Bob e che esigeva 200.000 dollari in contanti. A quella richiesta Bob aveva abbandonato l'incontro. Poi Roger gli aveva inviato una lettera in cui continuava a pretendere quei soldi. In effetti in quella lettera si legge se non accetti di pagare 200.000 dollari verrò lì e te la farò pagare davvero a caro prezzo. Ti farò del male in un modo che ricorderai per il resto della tua vita. La lettera, insiste Bob, era arrivata sei settimane prima dell'omicidio di Doris. Bob la consegna alla polizia e attraverso il tracciamento delle carte di credito, gli investigatori scoprono che Roger si trovava a Houston al momento dell'omicidio. Le autorità però si interrogano sui termini della presunta minaccia di Roger. Perché l'uomo aveva atteso fino a quel momento per chiedere nuovamente dei soldi a Bob? Odiava suo fratello maggiore al punto da uccidergli la moglie per vendetta? Quella lettera soprattutto l'aveva davvero scritta lui? Il problema principale è che la polizia non riesce proprio a rintracciare Roger. Soltanto alla fine di luglio le autorità scoprono che Roger era stato arrestato a Las Vegas. Era ricercato a San Diego con l'accusa di furto di farmaci da prescrizione. Gli investigatori di Houston ottengono un mandato di perquisizione per esaminare il contenuto di una valigetta che Roger aveva con sé a Las Vegas e all'interno di quella valigetta trovano 64.242 dollari in contanti e diverse note, inclusa una pagina da tiro scritta che riportava il codice per aprire il cancello dell'abitazione di Bob, il codice dell'allarme e diverse informazioni sulla casa in questione. Gli appunti sembrano indicare esattamente come organizzare l'omicidio. Aspetta in cucina il soggetto, tornerà a casa. La polizia trova anche una registrazione su un'audiocassetta in cui due uomini discutono su come disattivare un sistema di allarme. Il codice numerico a cui si riferiscono in effetti corrisponde a quello utilizzato per disattivare l'allarme della casa di Bob e Doris. I due uomini ipotizzano diverse situazioni in cui una donna che a un certo punto viene menzionata proprio come Doris sarebbe tornata a casa. Discutono anche sui modi in cui avrebbero dovuto ucciderla. Poi si sente una voce che conclude dicendo «Deve risultare che è avvenuto per soldi». Capito? Capito quello che intendo? Di fronte a questa conversazione agghiacciante, gli investigatori dell'omicidi ritengono che i due uomini che la conducono sono Bob e Roger e Angleton. La polizia teorizza che Bob abbia ingaggiato Roger per uccidere Doris. In base alle note d'attilo scritte, il sicario doveva essere pagato quasi un milione di dollari. Ma all'insaputa di Roger, Bob si reca dalla polizia e punta il dito contro il fratello per deviare i sospetti da se stesso. Alle autorità sembra che Bob avesse scogitato una sottopiano per sbarazzarsi sia di Doris che di Roger. Ignorava però che Roger, forse per assicurarsi di ottenere il suo compenso da un milione di dollari, aveva segretamente registrato una delle loro conversazioni. Bob e Roger vengono arrestati all'inizio di agosto con l'accusa di omicidio capitale. Mentre Roger è in custodia, si fa intervistare da Vanessa Ledgett, una giornalista di Cronaca Nera e scrittrice. Roger racconta che Bob si è avvicinato a lui e gli ha chiesto aiuto per sbarazzarsi di Doris. Secondo Roger, Bob gli avrebbe offerto un milione da corrispondere in dieci anni per l'omicidio della moglie e come garanzia del suo silenzio sulla questione. Quando il processo di Bob è imminente, due coppie di Riverox, Missy e Tex Welsh e Tommy e Julie Hughes intendono testimoniare a favore di Bob. Gli avvocati di Bob hanno permesso loro di ascoltare l'audiocassetta per diverse ore e le due coppie ritengono che la voce che si sente nella registrazione non appartiene a Bob. Gli avvocati dell'uomo Michael Ramsey e George Tyson cercano indubbiamente di far escludere il nastro come prova, affermando che per ottenerlo è stato utilizzato un mandato di perquisizione improprio e anche che non esiste un modo esaustivo per capire di chi fossero quelle voci. Se questo tentativo fallisce, agli avvocati tocca convincere la giuria che è Roger il fratello malvagio, la mente e il braccio dietro l'omicidio e non Bob. Gli avvocati intendono riferire alla giuria che Roger ha elaborato con l'inganno quelle note dattiloscritte e che è riuscito ad alterare la registrazione alludendo all'omicidio di Doris in modo da ricattare Bob per ottenere ancora più soldi. Resta però una domanda che io non mi spiego. Perché Roger avrebbe inciso anche la propria voce su quel nastro? Forse sarebbe meglio far emergere altri sospetti suggerendo che l'omicidio sia stato commesso da libratori asio-americani o da un ladro. Una delle questioni spinose da affrontare durante il processo di Bob è il movente che lo avrebbe spinto a volere la morte della moglie, un argomento che ancora sconcerta tutti coloro che sono coinvolti nelle indagini. Secondo una prima teoria Bob era timoroso perché Doris una volta ottenuto il divorzio avrebbe tranquillamente potuto rivelare l'entità dei suoi affari dal liberatore. A quel punto l'IRS, l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi negli Stati Uniti d'America, avrebbe potuto dar via a un'indagine. Se l'IRS avesse scoperto l'entità del suo reddito non dichiarato Bob sarebbe finito in prigione. Secondo un'altra teoria Bob aveva scoperto la relazione tra Doris e l'uomo della chatroom e aveva pianificato l'omicidio della moglie con rabbia estrema. Bob, consapevole di aver operato a lungo illegalmente facendolo al libratore, magari pensava di farla franca anche questa volta. Mentre Roger è detenuto a Las Vegas, Bob è rinchiuso nella prigione della contea nel centro di Houston. In una sala per le visite ai carcerati Bob si sporgina avanti sulla sedia di plastica e dice a un giornalista che è andato a trovarlo. Ascoltami bene, Doris ha rappresentato tutto ciò che avevo di buono, ok? Ci sapeva affari con i bambini, era una madre amorevole, era capace di stringere amicizia con chiunque. Le lacrime gli riempiono gli occhi e aggiunge, perché dovrebbero pensare che avrei voluto farle del male? Bob insiste sul fatto di non aver mai saputo della relazione extraconiugale di Doris fino a quando la polizia non gliene ha parlato dopo la sua morte. Se Bob avesse mai accusato Doris di tradimento, sono certa che Doris me l'avrebbe detto. Dice un'amica della donna che aveva parlato con lei quasi ogni giorno negli ultimi mesi della sua vita, ma aggiunge anche che Doris quella primavera pensava che Bob la seguisse. Il marito la teneva d'occhio e voleva sempre sapere dove andava, cosa faceva, con chi parlava. Nella settimana della sua morte, riferisce l'amica, Doris aveva indossato un vestito firmato, poi aveva detto a Bob che stava andando a prendere sua madre per la cena e a quel punto Bob aveva chiamato la suocera per rassicurarsi che Doris fosse realmente diretta lì. Doris è sempre stata il suo premio, il suo trofeo, dice un altro amico. Sono state le sue abilità sociali a rendere Bob molto più accettato a Riverox. Nessuno può dire con certezza se Bob sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e nessuno sa con certezza cosa voleva fare Roger con quell'audiocassetta. Bob è convinto che se Doris non fosse morta sarebbe stato in grado di salvare il loro matrimonio. Secondo lui stavano facendo progressi, parlavano di più e la loro terapia col consulente matrimoniale stava funzionando. Bob vorrebbe dire qualcos'altro al giornalista che lo sta intervistando ma le lacrime gli riempiono ancora gli occhi e si porta le mani al viso. Al giornalista l'uomo sembra in imbarazzo per il suo sfogo. A qualcun altro potrebbe sembrare che stia cercando di nascondere un segreto. Nel frattempo l'accusa cerca di offrire un patteggiamento a Roger per farlo testimoniare contro Bob. Ma il 7 febbraio 1998 Roger si uccide nella sua cella circa 56 anni di età. Per porre fine alla sua vita utilizza un rasoio, si taglia più di 50 volte e lo fa da solo. In una lettera Roger afferma di aver ucciso Doris per vendetta e sostiene che Bob non era coinvolto nell'omicidio. Quanto a Bob senza la testimonianza di Roger l'accusa può valersi soltanto dell'audiocassetta, il cui contenuto non è molto chiaro a dirla tutta. Il processo di Bob inizia nel luglio del 1998 e la giuria alla fine lo assolve. Passano circa tre anni e mezzo e Bob deve affrontare un'accusa di omicidio federale. Però pochi giorni prima dell'inizio del processo Bob prende un aereo e vola fuori dagli Stati Uniti con un passaporto falso. Atterra ad Amsterdam nei Paesi Bassi dove viene arrestato a causa del passaporto falso ma il governo orlandese si rifiuta di estradarlo per l'accusa di omicidio. I funzionari decidono di rimandarlo negli Stati Uniti a una condizione. Bob dovrà essere processato soltanto per il passaporto falso e la frode fiscale. Così l'uomo torna negli Stati Uniti nel settembre del 2004. Bob si dichiara colpevole dei reati di cui è accusato e viene condannato a 12 anni di carcere. Nessuno però ahimè è stato condannato per l'omicidio di Doris Angleton. Bob sconta la pena e viene rilasciato nel gennaio 2012. Non è chiaro dove viva attualmente, si sa soltanto che forse si è stabilito in Europa. Detto questo ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. io sono molto curiosa di conoscere le vostre opinioni quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale, mi raccomando. E buon Halloween! Ciao a tutti! Ciao a tutti!